pace e bene ben trovati e buon anno liturgico a tutti inizia un nuovo anno lungo il quale saremo accompagnati dal vangelo secondo marco l'anno b inizia anche il tempo di avvento tempo forte dell'attesa non è solo l'attesa della venuta del signore cioè il natale il natale ha segnato la prima venuta di gesù nell'umiltà della nostra condizione umana ma soprattutto vuole svegliarci perché perché noi attendiamo il ritorno del signore nella gloria quando avrà fine questo mondo meglio giungerà al suo fine e verrà trasformato inizieranno cieli nuovi e terra nuova ma il signore non è che se ne è andato e lui sta di là e noi di qua il signore continua a essere presente in modo nascosto non lo incontriamo nella chiesa nei sacramenti lo incontriamo e lo serviamo negli altri lo ascoltiamo nella sua parola insomma è vivo e presente in mezzo a noi che bussa al cuore che rompe nelle nostre vite in tanti modi quindi in attesa della venuta ultima cerchiamo di seguirlo riconoscerlo e amarlo nella sua presenza nascosta il testo del vangelo di oggi suona proprio la sveglia come in queste ultime settimane la liturgia ci ha abituati e ha una parola chiave la parola vegliare nel suo significato etimologico significa scacciare il sonno assenza di sonno in greco e group neo soprattutto nel momento in cui il sonno sembra vincere ogni resistenza ma non ha soltanto un significato fisico di privarsi del sonno così fino a se stesso con rischi di attacchi di ira e nevrastenie varie ma soprattutto ha un profondo senso spirituale per farvi un esempio il salmo 13 4 dice conserva la luce i miei occhi perché non mi sorprende il sonno della morte quindi essere vigilanti vegliare cosa significa significa lottare contro il torpore del peccato e la negligenza per giungere alla meta una persona che veglia una persona sveglia è una persona presente a se stessa che viva la presenza di dio e cerca di vivere in pienezza il suo quotidiano per il credente la meta quale è appunto l'incontro col signore quando tornerà nella gloria alla fine sicuramente quando ci chiamerà con sorella morte l'atteggiamento della veglia deve essere un'attesa operosa pensate alla moglie al marito che attendono l'amato l'amata a casa e nel frattempo prepara a sistema prepara una buona cena per accoglierlo pensate a un lavoratore al quale il titolare dà un compito e il titolare se ne va e questo nell'attesa che ritorni fa il lavoro che gli è stato dato oppure pensate non so a un genitore che attende il figlio che ritorni la sera ma siccome si fa tardi accende la luce rimane sveglio anche lui attendendo il ritorno del figlio ecco questo significa vegliare spiritualmente avere questo atteggiamento perché vegliare nel mondo tanta gente fa le veglie si priva pure del sonno ma per cose magari neanche buone sant'agostino simpaticamente diceva pure il donnaiolo pure il ladro veglia ma non è che è una cosa utile perché dunque vegliare e ce lo dice gesù perché non sapete il momento e quindi c'è da stare svegli e uno potrebbe dire ma ok il signore mio ma non mi potevi dire il momento me lo dici almeno sto più rilassato no che posso sa tutta la vita con sta tensione dimmi quando vieni e buonanotte no troppo comodo siccome il signore ci vuole desti vivi vuole figli vivi non morti che camminano vuole persone responsabili persone che vivono in pienezza non che vivacchiano allora non si accontenta di darci date scadenze ma ci chiede di essere aperti al sublime aperti alle novità aperti a lui e ci chiede di metterci in gioco lui ci dà tutto ma non si sostituisce alla nostra libertà e questo ci scuote ci stimola ci sveglia noi a volte pensiamo che dobbiamo possedere il tempo e sapere tutte le cose come andranno pensate all'assurdo di chi va da maghi e ciarlatani vari perché deve sapere cosa gli accadrà ma il problema non è essere padroni del tempo quel tempo che purtroppo tante volte invece perdiamo miseramente come se la vita avessimo un contratto di 150 anni assicurati il problema è imparare a vivere il nostro tempo o meglio il tempo che dio ci dà perché il tempo e la vita è cosa sua si tratta di imparare entrare nelle occasioni quotidiane si impara giorno per giorno a vivere in pienezza ecco allora cosa dobbiamo chiedere al signore in questo tempo appunto di sveglia perché perché non ci colga il sonno della morte perché perché non ci abbiocchiamo quando è che uno si abbiocca è uno si abbiocca quando si disperde mille cose inutili quando lega il cuore a cose a piaceri quando diventa schiavo di qualcosa quando vive per se stesso quante volte a casa vi sarà capitato di dire oh ci sei ma dormi ma mi senti o quando vedete una persona imbambolata no non so pensate alla persona dipendente sempre attaccata ai videogiochi o al computer che avevi rintronato che ti arriva dici questo dorme in piedi non pensate a una persona che è presa da altro non so quello preso dalla carriera che arriva a casa la testa c'è sempre al lavoro e tu lo vedi che non è presente ecco la persona addormentata la persona così che sta rinchiusa nella sua mediocrità signore ci invita a vegliare essere attenti vigili a noi essere attenti non giocare a rimando sapete quando affondo il titanic tante altre navi inviarono segnalazioni di fare attenzione perché si stavano dirigendo a vicenda l'uno contro l'altro nave e iceberg il problema è che durante c'era una serata di ballo non si vollero interrompere i festeggiamenti e quindi si rimandarono le decisioni all'indomani a un certo punto un tremendo boato e la catastrofe così siamo a volte noi presi da tante cose che sembrano riempirci in realtà ci addormentano il cuore allora il signore ci invita ad essere e entrare nella prospettiva di una vita meravigliosa perché perché l'immagine che segue è quella di un padrone che affida il compito sui servi ognuno il suo è bellissimo perché ognuno di noi ha un compito una missione tutte uniche irripetibili e preziose non esiste la missione di serie a la missione di serie b no dio affidava ognuno di noi un compito il beato newman diceva ognuno è prezioso al suo posto quasi come un arcangelo al suo e poi c'è questo portiere che è chiamato a vegliare se ricordate i portieri ci sono ancora in pochissimi palazzi sono quelli che controllano chi entra e chi esce ecco il signore ci invita a essere con questo portiere di fare attenzione perché nei vari orari che scandiscono la veglia notturna all'epoca di gesù sia pronto a raccogliere il padrone vedete il portiere anzitutto portandolo in chiave spirituale che in un certo modo è dentro il cuore di ognuno di noi si tratta di quella parte attenta e vigilante ciò che entra e ciò che esce cioè se io vivo davvero proiettato verso il signore cerco di discernere se una cosa è bene o male non mi fermo al mi piace non mi piace ma cerco di andare oltre questa cosa che voglio fare che voglio fare entrare in me questa cosa che voglio vedere questa cosa che voglio sperimentare questa cosa mi fa bene oppure no non solo il portiere è attento perché deve custodire gli altri allora qui si tratta di imparare a vivere in pienezza a essere desti a essere svegli perché perché dio ci affida un compito di servizio cioè dio ci affida delle persone e se io mi abbiocco e non sono attento non saprò mai custodire gli altri sarò preso da me stesso preso da quelle cose che hanno schiavizzato il mio cuore dei miei idoli che mi rendono prigionieri avrò la testa tra le nuvole un genitore preso dalla carriera non saprà vedere i bisogni dei figli o che non vuol vivere la fatica di educare non saprà dirgli dei no e mettergli dei paletti una persona pensate quando cadi in una dipendenza quello diventa il tuo dio non sei più capace di vedere niente nessuno o se sei preso dalla tua immagine a quello che gli altri pensano di te non saprai custodirli dirgli la verità perché hai paura di perderli e così via ecco vivere nella verità aver la luce della parola perché perché si tratta della nostra salvezza e di quella degli altri qui è particolare perché questo portiere deve vegliare di notte la notte anche un'immagine per descrivere in un certo modo la nostra vita perché perché siamo in un contesto non semplice attorno a noi ci sono ideologie ci sono battaglie ci sono mentalità sbagliate e se noi ci chiama essere però attenti c'è un consumismo ci siamo bombardati di un sacco di cose inutili allora si tratta di tenere un cuore libero e sveglio come si fa a farlo la tradizione cristiana ha identificato la veglia e l'ha associata alla preghiera e alla lotta spirituale la preghiera che è l'arma per eccellenza cioè rivolgersi a dio stare in comunione con lui e dall'altra parte la lotta spirituale per purificare i pensieri custodire il cuore e lottare contro il peccato cercando così di coltivare la relazione con dio e la cura della nostra interiorità potremmo concludere dicendo dunque chi è il vigilante l'uomo sveglio non addormentato non intontito che si lascia interpellare dagli eventi e l'uomo presenta se stesso agli altri che ha radici in sé e non attende dall'esterno la conferma al proprio agire l'uomo paziente perseverante profondo invece l'opposto l'uomo dormiente diceva manicardi è colui che sta al di qua delle sue possibilità che ha paura che vive più orizzontalmente che non in profondità che si disperde in mille cose da fare in tante cose da possedere pigro e negligente che trascina la sua vita come non dovesse mai finire saltando da un divertimento all'altro chiediamo invece a dio la grazia di essere attenti svegli e vigilanti perché noi sappiamo che camminiamo incontro al signore ecco corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti dice la lettera agli ebrei tenendo lo sguardo su gesù autore perfezionatore della nostra fede buon avvento a tutti